la pressione dei calci di rigore un vero test nervoso non soltanto per i portieri ma anche per i tiratori la parata fantastico il portiere ha fatto un lavoro eccellente si ce l'ha fatta uno a uno gran rigore tirato con grande sicurezza è uno a uno adesso hanno pareggiato splendida parata la proprio sprecata vero Mauro? certamente un vero spreco un altro grandissimo intervento del portiere il portiere ha fatto un lavoro eccellente messo dentro con molta sicurezza centrale scelta di tiro sciagurata del rigorista calciato fuori sulla destra capitano si prende la responsabilità la messa alla sinistra del portiere è sottoposto ad una pressione spaventosa se sbaglia è tutto finito parata è finita grandissima prestazione da parte loro oggi l'allenatore sarà senz'altro raggiante dopo questa meritatissima vittoria grazie